Pensato il passato, il passato antico greco e romano per noi è un antefatto costante, a cominciare anche dalle parole della politica che noi adoperiamo e che sono quelle degli antichi, fermo restando che il loro significato si è trasformato nel tempo in modo drastico. Intanto non c'è una storia continua del fenomeno democratico. Quando nasce già nel mondo delle città greche non è affatto una parola ben vista, anzi è un insulto, è un termine che vuole indicare la prevalenza, come dice un autore atenese di tardo quinto secolo, delle canaglie. Lui ha un linguaggio molto crudo, è un oligarca chiaramente, addita a tutti i difetti dei sistemi in cui il popolo conta e Aristotele, un secolo più tardi, nella politica riflette su questo concetto in più punti della sua opera, che peraltro non è un'opera organica, sono i suoi corsi sulla politica messi insieme dagli scolari. Nel terzo e quarto libro, che sono forse quelli più recenti dal punto di vista della composizione, approda ad una definizione interessante che io spesso ricordo, ma i miei critici non gradiscono che venga ricordata questa definizione, è il governo, lui dice, dei poveri, dei non possidenti, di quelli che non hanno beni propri, pensandosi essenzialmente a terre, il possesso della terra è la forma primaria di proprietà. Quando una città, lui dice, ha 1300 abitanti, è un'ipotesi fittizia, e 300 sono poveri e governano, quella è una democrazia. Governano i mille ricchi, quella è un'oligarchia, perché l'oligarchia è il governo dei ricchi, dei possidenti. Ora, approda ad una definizione, diremmo noi moderni, sostanzialista, che fa a pugni con le definizioni correnti molto venerate, Sartori in particolare, ci si inginocchia appena si pronuncia il nome Sartori, va benissimo, è una persona intelligentissima al tempo suo. Il numero, la maggioranza, no, non è la maggioranza. Nel concreto della storia ateniese, Aristotele dice, per lo più i poveri sono più numerosi, per lo più. Proprio nel caso di Atene è vero il contrario, potremmo dire, perché tanto Atene vuol dire lattica, cioè una regione, uno stato regionale, non una città-stato, è una frase priva di senso. Stato regionale in cui la maggioranza numerica delle persone di condizione libera, naturalmente, che sono molto meno numerose degli schiavi, è costituita da piccoli proprietari. Quindi i poveri, nel senso di non possidenti, sono una minoranza politicamente attiva. Il sostegno del sistema democratico fondato sull'assemblea decisionale funziona perché c'è questa minoranza attiva, cui, peraltro, la ricchezza che viene dagli alleati, dall'impero e dal fatto che ci sono gli schiavi, consente di fare politica. L'élite sociale, costituita da grandi famiglie, da personaggi di spicco, che hanno preparazione, fra l'altro anche oratoria, grande esperienza, accettano queste grandi famiglie il sistema, lo governano, però lo governano in modo dialettico, in contrasto creativo con l'assemblea. Quello stesso autore, che ho ricordato prima, l'anonimo, perché il nome è suo, non lo conosciamo, potrebbe essere Crizia, l'allievo di Socrate, dice che le cariche elettive il popolo, che lui desprezza, le lascia amministrare dai ricchi. Perché non lo saprebbe fare? Le cariche elettive sono quelle più importanti, l'amministrazione delle finanze, le notami, e la strategia, cioè i comandi militari, che non sono soltanto militari, hanno anche forti responsabilità politiche. Ecco, questo è il quadro concreto. Non c'è da innamorarsene necessariamente, perché le critiche al sistema sono molto forti, le leggiamo nei filosofi, quasi tutti i pensatori sono contrari al sistema democratico, con varie argomentazioni. Lo stesso Aristotele introduce delle limitazioni, propone dei correttivi. Questo sistema certamente è un modello remoto che non ha nulla a che fare con la pratica, diciamo, tardo-settecentesca, ottocentesca. Rassomiglia un po' ai comuni medievali per quella breve stagione in cui hanno avuto una vitalità la Firenze di Machiavelli, di Sabonarola, dove non c'è più la schiavitù antica, c'è una conflittualità fortissima e anche una grande instabilità. Quindi è un esperimento interessante che riappare, la parola magari non è quella. C'è un passo che ogni tanto mi accade di ricordare, messo in luce da Roberto Ridolfi, biografo di Machiavelli e di Sabonarola, un passo della cronaca della rivolta dei Cionpi, in cui un capo popolare si rivolge a Gino Capponi, remoto, antenato di Ridolfi, e dice voi ricchi la smetterete con le vostre maggioranze, perché nell'italiano arcaico maggioranza vuol dire sopraffazione, e a noi fa un certo effetto perché i cultori della maggioranza come veicolo di democrazia hanno qualche imbarazzo dinanzi a queste difficoltà, e però basta capirlo insomma che vuol dire quello. Le vostre maggioranze vuol dire che i signori poi tentano di sopraffare avendo più cultura, più ricchezza, più capacità di influenzare gli altri, eccetera. Dopodiché la storia ricomincia molto dopo, però colpisce il fatto che nell'oratoria parlamentare della rivoluzione francese, che noi abbiamo per fortuna in larghissima misura, la parola dominante è patria, nazione, libertà, peuple anche, il popolo, la Marat fonda un giornale la Mediopöple, evidentemente, ma questo cosa significa? Che l'idea che loro hanno, un po' confusa, anche contraddittoria, date i contrasti tra di loro, le formazioni partitiche embrionali, la montagna, i club, poi la palude. Saint-Just teorizza che in un regime repubblicano ci può essere un solo partito, un partito che si riconosce nel sistema repubblicano. Ma anche dopo c'è un lessico Statslexicon fondato da un pensatore liberale, liberale poi all'inizio dell'Ottocento vuol dire un'altra cosa rispetto a Giovanni Malagodi, naturalmente, vuol dire quasi un erede del giacobinismo che ha imparato la lezione del fallimento del giacobinismo, quello grosso modo vuol dire. che quest'uomo si chiamava Rotteck, fonda lo Statslexicon e in un supplemento, non più scritto da lui, ma dai suoi scolari, c'è una frase che mi colpisce per la sua semplicità. In uno Stato democratico a rigore può esistere soltanto il Partito Democratico. Diciamo della restaurazione del primo decennio, quindicennio della restaurazione comincia a farsi strada e cioè che le organizzazioni dei lavoratori fanno nascere la istanza democratica. Sono lavoratori che hanno una vita durissima, che si organizzano e che pongono la questione delle questioni in antitesi alla visione liberale ormai consolidata, vogliono il suffragio universale. E quindi la democrazia comincia a muovere dei passi nell'Europa del secolo XIX nel nome del suffragio. L'idea è che il suffragio darà il potere ai poveri, ai lavoratori. Il movimento operaio si organizza e il primo vero partito moderno è il partito operaio, poi i vari partiti socialisti dell'Europa tardo-ottocentesca. La democrazia comincia a vivere allora ed è tutt'altro che una vita facile. Perché per esempio ancora quando Mazzini è a Londra esule l'Oxford Dictionary che ha avuto varie edizioni anche quella ultima è molto utile si rifanno i vocabolari nazionali diciamo così definisce questo vocabolario l'Oxford Dictionary social revolution la rivoluzione sociale quindi è una cosa terribile che l'establishment non sopporta. L'oligarchia essendo diciamo l'espressione politica dei benestanti cioè delle persone che hanno non solo la proprietà economica che dà sicurezza ma anche la cultura e tanti strumenti che gli altri non hanno gode di una continuità quasi ininterrotta potremmo dire e si adatta anche a soluzioni diverse buona parte la spada della rivoluzione ha capito a modo suo perché la rivoluzione è andata poi su un binario morto si inventa l'impero che è una trovata non so se oggi qualcuno si lancerebbe in una definizione populista una parola priva di senso che è comoda è come uno scendiletto populista buona parte ha un forte carisma legato però alla guerra quindi l'armata i suoi fedelissimi è la spada della rivoluzione era l'amico di Agostino Robespierre poi naturalmente ha preso le distanze per salvarsi si inventa la nobiltà dell'impero quindi ricrea una nobiltà poi inventa anche la polizia politica e tante altre cose tutt'altro che ragguardevoli i moderni dinanzi a questa continuità e al fatto che le élite riescono poi comunque a dominare accordandosi anche col potere personale se necessario i più acuti tra i moderni hanno elaborato una teoria che viene definita un po' pomposamente perché non è niente di originalissimo in realtà elitista il pensiero elitista che ha un nocciolo interessante molto diciamo realistico gli editisti sono realisti e considerano le idee politiche e quindi gli stessi partiti politici come delle formazioni retoriche la sostanza è che le élite dominano comunque dice Gaetano Mosca una minoranza organizzata è irresistibile il che è anche vero in certa misura tranne i momenti in cui una bufera travolge anche le minoranze organizzate questo non va dimenticato il suo scolaro ideale diciamo così Roberto Michels è interessante ai nostri fini quando si parla di oligarchie di elite perché studia in quel libro molto importante sociologia del partito politico 1912 quindi siamo all'inizio del novecento il partito operaio per eccellenza cioè il partito social democratico tedesco che è maestro di tutti i socialismi del mondo e constata che anche lì dentro il meccanismo di un'elite che dirige si riforma si riproduce non per eredità o per casta precostituita ma perché nella dinamica dell'organizzazione della lotta delle responsabilità che si assumono si formano elite ma questo l'aveva pensato già a buona parte nonostante fosse quel ruvido personaggio come detto prima perché le aristocrazie si formano dovunque anche negli atelier operai però ecco il fatto che oggi si parli di oligarchie pensando di dire grosso modo la stessa cosa che profferendo il termine aristocrazia veneziana è uno sbaglio perché oggi le oligarchie sono legate a un fenomeno completamente nuovo e ai limiti del diciamo della malavita organizzata cioè il capitale finanziario il capitale finanziario è il vero padrone dei nostri destini ed è il luogo attraverso cui la grande malavita mondiale che non è il povero spacciatore qui all'angolo di una povera strada di provincia ma il grande traffico ripunisce il denaro nelle banche e naturalmente quello è il segreto del Graal che non va toccato e il grande giro di quattrini la ricchezza è tutta lì dentro quindi le nuove aristocrazie o oligarchie che dir si voglia sono come intuì Bertolt Brecht grande poeta tedesco strettamente connesse alla malavita la quale ha in pugno i destini dei cosiddetti paesi civilizzati è stata la formazione dopo la fine del socialismo in Europa e l'illusione americana di avere il monopolio del mondo la formazione di un'unione europea obiettivo straordinariamente importante attuato nella forma peggiore possibile cioè nella forma monetaristica con vincoli ferocissimi penalizzanti per i paesi meno solidi o già indebitati attacco allo stato sociale lo stato sociale un peso era nato lo stato sociale diciamo tra le due guerre perché perché c'era l'esperienza comunista e quindi bisognava dare in occidente una risposta valida lo stato sociale è la risposta che un capitalismo intelligente dà lottando e collaborando col movimento sindacale al fenomeno del comunismo che garantisce tantissime cose ai lavoratori in cambio di un sistema politico oppressivo diciamo non aperto per usare le categorie di popper allora quando si piccona lo stato sociale perché tanto il comunismo non c'è più i vincoli di Maastricht sono ferrei i partiti o si adeguano a questo e gli eredi del partito comunista questo hanno fatto dagli anni 90 in avanti o si contrappongono senza poter incidere effettivamente perché il potere sta altrove è lontano e in luoghi inaccessibili non elettivi abbiamo una formazione politica che non gradisce neanche che gli si ricordi la remota origine attualmente si chiama partito democratico si guarda gli Stati Uniti d'America e va bene un movimento sindacale che non trova un interlocutore vero non ce l'ha in casa propria da ultimo non viene neanche ricevuto nelle stanze del potere ce l'ha lontano e uno sciopero generale come quello del 19 novembre del 21 è come abbaiare alla luna suscita anche un certo scetticismo le contrapposizioni alla fine verbali sono riservate alle campagne elettorali ma poi si governa insieme dopo essersi insultati si direbbe in latino verbo tenus cioè limitatamente al profferire quelle parole e la cosa finisce lì dura da molto tempo sì perché nella vita parlamentare un dodicennio dalla cacciata di Berlusconi dopo che Draghi e Trichet mandarono la lettera che ordinava appunto di mandarlo via ad oggi un tempo non breve nella storia parlamentare di un paese e si comincia a capire che è una tendenza di fondo e questo induce a chiedersi che razza di partiti sono quelli che affratellati tutti insieme con qualche polemica quotidiana a fine come dire di rivendicazione della propria identità obbediscono a direttive a elementi cogenti che vengono ormai da fuori le direttive europee arrivano direttamente alle regioni saltando i governi nazionali la compatibilità Monti addirittura ci ha fatto mettere nella Costituzione il pregio di bilancio che per un paese come il nostro dove lo stato sociale è la salvezza dei ceti più deboli è una pura follia se il modello è quello degli Stati Uniti dove se tu ti ammali cadi nell'ascensore sociale molto in basso oppure devi avere un sacco di quattrini per farti curare non sono cose da poco caratterizzano una società uno stile politico ecco da questo come si viene fuori non è il nostro compito indicare le ricette perché nessuno ce le ha belle pronte ma indubbiamente non può durare quindi se è vero che la politica è conflitto perché non può che essere tale essendo la società conflittuale se ne verrà fuori non sappiamo come ma certamente non può durare in questa forma